Il mio brano si chiama Qualcosa da decidere, l'ho scritto con un amico, è l'unico brano nel disco che non è interamente mio, è un brano immediato, è molto leggero ma radiofonico, mi sembrava la scelta più giusta per partecipare qua perché è il pezzo più commerciale, più radiofonico, più immediato che ho nel disco, dopo di lì io non ho fatto più niente, sono andato a bussare a qualsiasi porta, a chiedere ascolto a qualsiasi persona ma ovviamente gli ascolti non c'erano, si dice a riguardo, mi diceva, hai visto che è passato un treno, non ne passa più, te lo sei giocato, sei sceso, invece poi ho avuto l'opportunità di incontrare Andrea Di Palmo che è la manager che ha lavorato con D'Andrea, è la manager di Fussati, adesso è la manager di Adria, è la manager di Damanini che mi ha ascoltato. Alla prossima D'Andrea Alla prossima Grazie a tutti.